Vinitaly 2018, compleanni importanti, 150 anni portati bene da Tenuta Travaglino e da Cristina Cerri. Buongiorno a tutti ed eccoci qua a Vinitaly e in occasione di questa manifestazione presentiamo quest'anno la riserva del 150esimo, appunto rigorosamente metodo classico già selezionato più di dieci anni fa da mio nonno, che fece una selezione delle migliori vigne più storiche della tenuta per manifestare in pieno l'espressione del nostro territorio. Ed ecco qua la riserva del 150esimo, metodo classico, 85% pino nero in una versione con dosaggio zero, quindi non liquor proprio per non interferire l'espressione del territorio, quindi impurezza senza liquor e zuccheri aggiunti. Oggi il battesimo ufficiale ma il compleanno continuerà anche nel corso dell'anno? Tutto l'anno e la tenuta è stata presa dal nonno di mio nonno nel 1868, quest'anno è il 2018 e quindi festeggiamo ogni giorno, ogni giorno è un'occasione. Quindi andate a trovare inoltre Popavese dove? Siamo a Calvignano che è sopra Casteggio e la tenuta si chiama Travaglino e siamo aperti sette giorni su sette, quindi anche sabato e domenica veniteci a trovare, abbiamo anche una locanda con le camere e la ristorazione e quindi vi aspettiamo. Buon compleanno. Grazie mille, cheers, auguri, vi aspettiamo.